Ciao a tutti, sono la dottoressa Leonora, sono specializzata in nutrizione e integrazione sportiva e sono anche responsabile del progetto PharmaSport, che è un progetto di farmacie più. Oggi sono qui per darvi qualche consiglio per ripartire a settembre con la giusta carica. Come si sa, settembre è un po' il mese delle ripartenze e quindi anche il mese in cui possiamo darci qualche obiettivo in più. Per esempio, quello di dare più attenzione al nostro benessere. Come fare? Sicuramente partendo dall'alimentazione. Magari dopo le ferie siamo tornati un po' più appesantiti e un po' più impigriti. Quindi sicuramente sane abitudini alimentari, 5 pasti al giorno e una colazione ricca. Come si dice, colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. A cena non siamo sempre così bravi. Mantenere una buona idratazione, anche perché sono giornate ancora calde, quindi distribuire bene l'acqua durante la giornata e non aspettare di avere sete. Limitare un pochino gli sgarri, ma senza essere troppo esagerati, perché sappiamo che l'eccesso alla fine non porta da nessuna parte e non è sostenibile nel tempo. Piuttosto godiamoci il buon cibo e facciamo attività sportiva seria. Quindi sicuramente il secondo consiglio è mantenersi attivi il più possibile, però sapete che il classico movimento non è sufficiente. Quanto farne? Ce lo dice l'OMS. Quindi 150 minuti di attività aerobica intensa a settimana o 75 minuti di attività vigorosa. Cosa vuol dire in parole povere? Tre volte a settimana una bella attività fisica o quasi tutti i giorni una mezz'oretta. In più due sessioni di attività di forza muscolare. Ricordiamoci che l'attività fisica è fondamentale per prevenire diverse patologie cardiovascolari, metaboliche, ma soprattutto ci dà buon umore. Lo sappiamo, ci rilascia endorfine ed è un antidepressivo naturale, quindi perché non approfittarne? Un ultimo consiglio che vi lascio è quello sicuramente di affidarvi a dei professionisti per quanto riguarda l'integrazione, perché gli integratori, soprattutto qui a settembre, nelle ripartenze, pensiamo anche alla scuola, possono essere molto importanti e utili, però vanno personalizzati. Quindi appunto affidatevi a professionisti e possono esservi utili dove? Per disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, nella stanchezza o nel mio campo, parlo di sport, anche per migliorare le vostre prestazioni sportive. Quindi vi aspetto per un consiglio e buona ripartenza!